La storia. C'è là chi la racconta, c'è dentro chi se la racconta, c'è anche chi è riconosciuto, c'è chi ha la simpatia degli altri, chi ha realmente fatto qualcosa in più, chi ha semplicemente scritto dei versi, a volte un'enciclopedia. Ci sono poi vari angoli del prismo dei fatti, c'è anche dentro chi non ha fatto niente o chi ha immaginato troppo. Perciò i vi dentro si trovano anche le illusioni e delusioni di chi pensa di aver fatto, ma in realtà non ha. La storia è come la si racconta, è chi la racconta. La storia è importante per gli importanti, però la storia è di tutti. Grazie.